Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Enomis come sempre e sono qui per commentare una partita a dir poco perfetta. Sto parlando di Napoli-Liverpool, prima partita del Genone di Champions League, finita 2-0 per il Napoli. Allora, che dire? Le parole si sprecano. Sinceramente non dico che ero scettico, ma insomma dovevamo affrontare i campioni in carica della Champions League, giocatori del calibro di Firmino, Mohamed Salah che era quello che mi preoccupava di più, Van Dijk che è praticamente il difensore più forte d'Europa insieme a, a mio parere, Koulibaly e non lo dico solo di parte. Ragazzi, che devo dire? È stata una partita praticamente perfetta, tutte e due le squadre sono comportate bene, ma merito molto di più a Napoli e non lo dico perché sono di parte. L'unica sbavatura è stata appunto un'incertezza, un errore da parte di Manolas, il nostro difensore centrale, che ha dato la possibilità a Salah di effettuare un tiro, ma là abbiamo un santo, non un portiere, che si chiama Meret, che ha fatto una parata eccezionale. Partendo dal inizio abbiamo iniziato molto bene con l'occasione, anzi la doppia occasione, da parte di Fabian Ruiz, è stato bravo il portiere a respingere su entrambe le occasioni. Peccato per appunto l'occasione da parte di Mertens che è stato servito con un cross perfetto da parte di Mario Rui che anche lui è stato bravissimo, ma devo dire la verità, non devo dire che tutti i giocatori sono comportati molto bene e in quell'occasione a tre metri praticamente è stato bravo il portiere del Liverpool in quel caso perché quando c'è stato questo cross ha visto il nostro giocatore Dries Mertens a tre metri lì, avrà pensato adesso tira il volo, mi tuffo già in anticipo e l'ha parata, si è staccato il braccio per prenderla ed è là ho avuto un po' di timore perché ho detto abbiamo avuto questa occasione, ma chissà che cosa succede. C'è stato il rigore a favore del Napoli su un fallo netto a mio parere di Caglion perché comunque anche se qualcuno può dire trascina la gamba, comunque viene ostacolato per cercare di dribblare l'avversario ed è stato trasformato da Mertens anche se il portiere l'ha intercettata e dopo l'entrata in campo di Llorente c'è stato questa piccola titubanza da parte dei difensori Llorente da rapace d'aria com'è ci ha portato sul 2-0 nei minuti finali e questo mi ha fatto molto molto respirare. Devo parlare bene di tutti alla fin fine perché Koulibaly è stato un fenomeno bravissimo a chiudere tutti gli spazi a fare gli interventi in scivolata. Mario Rui che era quello che doveva coprire su Mohamed Salah era quello che mi preoccupava ancora di più perché ho detto ok come dice il mio amico Vittorio, ve lo saluto dovevano mettere un motorino al posto delle gambe a Mario Rui perché insomma Salah è di una velocità spaventosa va a 30-35 all'ora correndo ma ce l'abbiamo fatta contenendolo molto bene Di Lorenzo diventa sempre più una rivelazione per questa squadra ed è una sorpresa. Un giocatore giovanissimo proveniente dall'Empoli e oggi va a fare il suo debutto in Champions League contro i campioni in carica rendiamoci conto e ha tenuto molto bene a bada un giocatore velocissimo senegalese come Mané Alan il nostro solito guerriero che alla fine è uscito per Crampi perché non ce la faceva più si è comportato molto bene anche in signe anche se non faceva proprio il suo solito ruolo ma era più sulla fascia sinistra visto che oggi ci siamo coperti un pochettino di più con un 4-4-2 con davanti la copia d'attacco Mertens e Lozano Lozano che non ha brillato tantissimo non ha fatto tanto ma comunque ha dato il suo contributo Mertens ha fatto qualche giocata insomma devo dire la verità ragazzi ci siamo comportati tutti 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 bene ovviamente quello che spero è che adesso non ci illudiamo ma abbiamo fatto solo un piccolo grande passo per il passaggio del turno che è quello l'importante dovremo affrontare adesso il Genk che questa sera ha perso 6-2 contro il Salisburgo dovremo giocare contro il Genk stesso in trasferta quindi non dobbiamo adagiarci sugli allori abbiamo fatto veramente un grande primo passo visto che come prima giornata affrontare già la squadra più forte del girone nonché campione in carica di Champions League lo voglio ricordare non è affatto facile l'abbiamo affrontato abbiamo giocato veramente bene e abbiamo vinto e abbiamo giocato in casa un San Paolo meraviglioso stupendo un'atmosfera magica spero di tornarci presto sinceramente sono da un bel po' di tempo che manco cos'altro a dire ragazzi io non ho parole altre cose un signore ecco una nota di merito la devo dare nei confronti dell'anatore del Liverpool Klopp che è sempre stato un signore che a fine partita ha voluto congratularsi abbracciare e salutare tutti i giocatori del Napoli veramente non è cosa da tutti altri giocatori altre note direi di no ho nominato tutti alla fin fine Caglione ha fatto il suo Meret è stato spettacolare soprattutto quell'intervento sull'errore di Manolas cos'altro a dire niente ragazzi è andata benissimo sono soddisfatto ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti il prossimo impegno che avremo sarà giocare in campionato contro il Lecce e dopodiché avremo il gank in trasferta io penso che questo commento può finire qui ditemi nei commenti se volete aggiungere voi qualcosa e continuare diciamo la discussione i commenti nei commenti stessi scusate il gioco di parole e io sarò ben felice di unirmi a voi e di rispondervi come sempre per adesso ragazzi questo è tutto mi raccomando se vi è piaciuto questa reaction questo commento sulla partita Napoli-Liverpool mettete tanti mi piace iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per essere sempre aggiornati sui video che posto che siano vlog che siano gameplay o che siano anche appunto commenti alle varie partite del Napoli io vi saluto qui vi ringrazio come sempre per seguirmi con tanta devozione passione amicizia e ci vediamo alla prossima va bene ragazzi un bacio a tutti come dico sempre state un abbono a tutto quanto e sempre forza Napoli vi voglio sempre ciao ciao vi ringrazio come sempre